Buongiorno a tutti da Brascello con Romolo, ora sono le 11 e meno 20 giustamente, ovviamente modestamente, attenzione, oggi ci facciamo un bel crudo e mangiato, appicciato, in che senso appicciato, un bel crudo e mangiato, allenato alla dog, perché giustamente la rabbia che abbiamo in corpo, quella rabbia, quella rabbia scatenata giustamente, quando si fa un bel spuntino, perché oggi, allora, prima di tutto i spuntini vengono fatti una volta che ti sei allenato giustamente, che fai lo spuntino e ti alleni, invece io la cosa la faccio viceversa, innanzitutto ci mangiamo oggi, magari, alla dog, ma, 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 guardate che meraviglia, questo è un pesce spada filettato a coup de prix, ma, 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 ti mangi questo che questo qui viene dalla Calabria alla Drog che con la roba calabrese non ti scherza ma dai dalla roba della Calabria scusatemi ma ma pasta a salame piccante ma dai infuocato e mangiato buono ma dai ma dai ma dai alla Drog perché quando tutto è alla Drog ricordatevi niente non è a Drog ma dai ma dai ora attaggiamo il nostro pezzo spada Drog ma dai crudo e mangiato ma dai ma dai ma oh sono caldi oh un caldo ora un bel mezzo bicchiere di saraceno primitivo del Salento mamma mamma e dopo dopo andiamo inizio alla nostra scatenata palestra perché diciamo non è che farò un granché giusto per farvi vedere che la mattina prima di fare palestra spuntinate crudo che non sia un crudo sia un cotto ma dai è mangiato bevete un sassetto di vino alla giacca e giustamente chi c'ha il sacco che è questo qui guardate aggiustiamo la candy e giustamente chi c'ha il sacco giustamente e giustamente si fa un po' di allenamento movimentale per il corpo perché giustamente quando uno è nervoso si deve pure saper sfogare giustamente non è che quando uno è nervoso il primo che trova lo picchia no perché lo ha di picchiare che cosa ti ha fatto che lo ha di picchiare no allora morio fa si picchia il sacco giustamente e niente io vado sempre a colpore uno perché giustamente io ho anche i guanti qua guardate io ho anche questi guanti qua giustamente se mi metto quei guanti là tanto non mi chiamo le pompine perché dove sta fuori stu ma dai bello oggi per me è un bel evento giustamente perché oggi mi viene a trovare una grandissima persona una bravissima persona e anche un bello guagnaul perché stamente dobbiamo parlare di tante cose e poi a cubo prince mi si porta anzi lo ci può lo porto dal baciami ancora ristorante pizzeria da Rocco Nicola gogozzo viadana mi raccomando eh se dovete mangiare una pizza talmente bella e genuina e profumata come noi attenzione e degustate un bel piatto di spaghetti con le vongole tutte a base di pesce frittura eccetera eccetera dovete andare alla pizzeria ristorante il baciami ancora gogozzo viadana è facilissimo e fa non vi perdete il baciami ancora baciami ancora baciami ancora baciami ancora baciami ancora baciami ancora alla vostra salute io voglio bene alla doc ovviamente io mi potrei anche lenare però una volta qui era vuoto ma adesso c'è il mobile la sedia il sacco il divano perché qui prima qui prima ragazzi e ragazze e tutti qui prima era un garage di allenamento se c'era una poltrona una sedia pure la sai ora giustamente ho fatto questa cosa qua giusto per fare i video per voi che i video li faccio anche su non mi posso portare il sacco su ma dai perché giustamente se mi porto il sacco su io ma dai faccio danni io un po' mi sono sfogato ma giustamente la mattina è tanto bello quando ti sfoghi ma dai facciamo una coppia di mezzo la mano ma dai che ci ha tolto se no se giustamente prendete una mezzo la mano e non spaccate i botti no il motivo ci deve essere ma dai niente ragazzi io mi degusto questo bel vinello che giustamente entra nella canna giustamente vino vinello che porta alla mia condanna se ti danno nella canna sarai nella mia condanna ovviamente questa è una cosa che mi ha fatto insegnare Andrea Mann mamma Andrea Mann va a vita quando senti Andrea Mann c'è saccia dite a me che doveva andare all'oriente vabbè ma che ti devo dire Andrea Mann arrivederci alla doc ragazzi mi raccomando un'altra cosa volevo dire scusate chi non è iscritto ancora sul nuovo canale giustamente giustamente di il canale nuovo che giustamente abbiamo aperto youtube alla doc con romolo mamma ah ok giustamente ovviamente non sono più su crudo cotto e mangiato ora sono alla doc con romolo io vi ringrazio come sempre più di prima vi auguro un buon giovedì a tutti perché oggi è giovedì penso sì oggi è giovedì oggi è il grande evento alla doc alla super doc alla doc ciao